Quest'estate con le quali abbiamo dovuto fare i conti, i graffiti, il vandalismo, il corridoio vasariano a Firenze e poi a Milano. Per fortuna che c'è Fabiola Minoletti. Buongiorno Fabiola, ci colleghiamo con Milano. Lei, oltre a essere biologa, è esattamente, tecnicamente cosa? Allora, io oltre a essere biologa mi occupo proprio dello studio del fenomeno del graffitismo vandalico in maniera autonoma. Ho iniziato nel 2005-2007 in un crescendo vertiginoso e praticamente ho acquisito molta conoscenza proprio sul fenomeno, sulle sue organizzazioni e sul suo andamento a livello locale e anche a livello nazionale. Il suo primo intervento non si scorda mai? Assolutamente. Il mio intervento, giustamente, l'ho fatto dove abito, nella zona del mio quartiere, insieme ad alcuni cittadini. Il primo intervento grosso è stato fatto nel 2008 e da lì veramente... Quale quartiere di Milano? Io sono in zona Viale Abruzzi, siamo in città studi esattamente. Dove abitavo io a Milano tanti anni fa, zona meravigliosa. Gli effetti del graffitismo sul decoro delle nostre città ha anche un risvolto di carattere economico. Galleria Vittorio Emanuele, ad esempio. Assolutamente. Il danno economico è elevatissimo e è anche difficile, in un certo senso, dare una stima del danno. Ci ha provato, in un certo senso, a sua edilizia che, secondo i suoi dati, per pulire Milano ci vorrebbero oltre 100 milioni di euro, per pulire la Lombardia oltre 300 milioni di euro e per pulire l'Italia non si sa. Però non è soltanto un danno economico l'effetto del graffitismo vandalico. Abbiamo un forte danno ambientale, abbiamo un danno d'immagine e soprattutto quello che pochi pensano, un danno sociale. Perché il cittadino, che vive in un ambiente degradato, nel tempo si disinnamora del proprio territorio. Oppure si adegua a quel degrato ob torto collo. Ma chi sono questi graffitari, anzi vandali? Perché poi c'è anche la street art. Ma quella è un'altra cosa. È un'altra cosa, assolutamente. Sì, si, occorre sempre distinguere i due fenomeni. I vandali sono ragazzi, mediamente hanno un'età tra i 18 e i 25 anni. Sono ragazzi, è un fenomeno molto trasversale. Non è che è associato a determinate classi o tipologie di famiglie. Senta, il sindaco che dice Beppe Sala? Beh, negli anni qui in Milano è stata forse tra i comuni che ha portato in maniera più vibrante avanti la battaglia di contrasto o quantomeno di contenimento al fenomeno. In ogni procedimento penale, quando i writer vengono indagati, il comune si costituisce sempre come partecipi. Però, mi faccia capire, lei tecnicamente che fa? Dà delle dritte alle forze dell'ordine? Gira a nottetempo con una calzamaglia nera simil-diabolica evacente o evacante? No, praticamente e banalmente io studio il fenomeno. Per contrastare e contenere il fenomeno basta studiarlo. Quindi io utilizzo come dati informativi il territorio. Quindi è per questo che noi puliamo degli ambiti territoriali, in modo tale che quando arrivano i ragazzi che imbrattano riusciamo a ricostruire la crew. Cioè ogni gruppo di writer organizzato in un gruppo, in una banda, diciamo, che si chiama crew. E poi dall'altro lato, utilizzando le tag firma che quindi vengono acquisite sul territorio, che quindi vengono tutte proprio fotografate, si utilizzano i social nei quali i ragazzi normalmente riversano i loro trofei. Quindi una volta era Facebook... Insomma, delle indagini ad ampio raggio. Abbiamo capito che Fabiola Minoletti è la vendicatrice del vandalismo via graffiti e sui muri. Grazie, buon lavoro cara Fabiola. Grazie a tutti. Adesso però.